E ciao signori, come sempre, perché ovviamente io devo arrivare dopo, siamo qui per Torino-Milan La partita come sempre è già iniziata, lo sapete che io, per partita mi sta sul cazzo Torino-Milan sia dove sono le cuffie, dove sono le cuffie, va per terra, sono un grande Ok, vediamo di non pigliare il gol da subito, eh Apro e vedo un'apertura semplicissima, sbagliata di Sallemakers, verso Brainy Diaz In Toscana diremmo Mimì e Cocò Partita molto molto lenta per ora, intanto mi sono preso uno vino Kinder al supermercato, ho trovato tipo Un puffo, Scalatore Cioè Riccardo Rodriguez, no, no Lento Belotti Eh, quando salta così Belotti Eh, tutti i milanisti questa settimana a dire, eh ma Sallemakers dovrebbe giocare al posto di Messias Io Ma davvero? Non sono uno peggio dell'altro Cioè, tra Messias e Sallemakers non ne fanno mezzo A questo punto Gioca con 3-5-2 Metti Calabria a tutto campo, no? Belotti, fallaccio di Tomori Giallo Intervento stupido di Tomori Quando non facevi gol una volta potevi dire Eh, non fai gol perché hai delle assenze Ma adesso questo discorso non puoi farlo Però quando mancavano Sia Rebic Che Ibra, tu hai vinto un derby Hai Hai vinto diverse partite Hai fatto diverse cose Tomori Dentro verso Giru Eh, si è girato Giru, si è Giru E Berisha Più La presa Sallemakers le hao Non far minchiate le hao, le hao, le hao Si va bello Ora cammina fino a casa tu Dato che ci sei Vento per Calabria C'è che si povega Calabria Calabria La parata di Berisha Finalmente si tira in porta Dai che sono schiacciati come la merda Dai 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 ragazzi Vi prego Le hao dentro La da Non la da Non la da ragazzi Non la da C'era chi era Calabria dentro Preciso Andava tu per tu Col portiere Non la passa Calabria dentro Cazzo Berisha Ragazzi Mamma mia Mi viene da piangere Veramente Cioè a vedere certe cose Mi viene da piangere Cioè la palla Era un iPhone 5S Che volava pronto E Berisha Chi è? Cioè che cazzo Nooo Ricci fuori No no ragazzi No 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 Io mi devo incazzare Io mi devo incazzare Io cioè io volete veramente Che bestemmi fino al ban Volete veramente Che rischi la querela Dalla squadra che tifo Che difficile da coprire Ma non avrà questo pallone Va verticalmente Verso Chessy Pobega in pressione Occhio al cross in mezzo Chessy la palla verso Brandyaz Che non può colpire di testa Rimane lì Nessuno c'è Tanto anche giallo Per Calulu Perfetto Ma no ragazzi C'è È una barzelletta È una barzelletta Sta qui Se le makers Fa fare un attacco Portando palla Io ho visto tutto Leao non passa La palla Un'altra cazzo Di volta Bella Bella per Braim Diaz Non fare Scazzate L'ha appena Fata Leao non la passa E Braim Diaz Braim Diaz non la passa Leao Cioè ma O vi state sul cazzo O veramente No ragazzi In due contro due Che sì Non aggancia Giru Ragazzi Porco puttano Cosa sto vedendo Cosa sto vedendo Poi se le makers Fa lanci Di 85 metri Per Giru Ragazzi Lo so Scevolato Sura Tenta Ma guarda Non fatevi ripetere Le play Perché se no Mi incazzo Come una iena Non me lo fate rivedere Per favore Le play Non voglio Non voglio ripetere Le play Ma come si fa Ma come cazzo Si gioca Ma come cazzo Stiamo giocando Primo tempo Di merda Ecco cos'è Hai fatto Un tiro Porta L'ha fatto Calabria Che non era neanche Il suo piede Con 10 uomini Davanti Questo Hai fatto Quando sbaglio Quando sbaglio Il passaggio Quando sbaglio L'anticipo Quando sbaglio L'inserimento C'è sempre Un cazzo Di errore Nel mezzo Ternale Vediamo se gliela dai No Va al centro Va al centro E cosa fa Leao Cosa fa La spalla Addosso a Brewer Non ne posso più Guarda lì Il Torino Arriva a metà A campo E tiri da la palla E noi Non riusciamo A sfondare Io non mi posso Avvelenare Tutte le volte Così La Salernitana E poi Ma avete fatto Orlan contro La Salernitana Ma avete fatto Orlan contro Udinese Ma avete fatto Orlan contro Napoli Ma avete fatto La lunedì Contro Bologna Meno male Che col Cagliari Non l'ho fatta La live reaction Sennò che cazzo Fine primo tempo Ma vattene a fare Il culo Non ne posso più Ma come cazzo Si gioca qui A bocce Si gioca A le cazzo Di bocce Si inizia ragazzi Niente testa sera Niente testa Sono talmente Incazzato Deluso Frustrato Amareggiato Da quello che sto vedendo Che non ho neanche La tranquillità Necessaria E sufficiente Per poter farmi Il tè Dell'intervallo Stasera Tanto si è portato male Contro la Macedonia Ha portato male Contro Bologna Stasera Non me lo faccio Che non c'ho neanche voglia Ragazzi Ve lo ho già detto 45 minuti Che ci diranno molto Se intendi Molte bestemmie Hai pienamente ragione Iuri ce l'hai rotto I coglioni Cioè stai zitto Ogni tanto Perché veramente Quanto morire Violi Questa Questa vera È chiudere Nella Nella reaction Perché questa È fantastica Tonali Cosa cazzo Sta succedendo Lancia Leao Eh sì 95.000 All'ora No vabbè Pobega Sinistro Tonali Scivola Pobega Ah Magnana Al primo Guardate qui Al primo tiro in porta Sono stati Più pericolosi Di noi Abbiamo gli stessi Tiri in porta Del Torino Grande Leao Leao Fai qualcosa No Infiltrante Perché sbaglia il passaggio Perché non ha abitato A passare la palla È l'unica conclusione Che mi viene in mente In questo momento Ragazzi La fotocopia Di Milan Bologna Uguale È passata una settimana Non è cambiato Un cazzo Entra Messias Fuori Brain via Insomma Sta a fare conti Quei fichi secchi Fratello E Alberto Ternandez Grandissimo Qua è fallo Qua è fallo Leao Che può provare Uno contro uno Con Zima Dentro ci sono Leao 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 Perché vuoi saltare Il portiere Tira cazzo Tira Ma chi c'ha La colla Alle scarpe Tira 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 cazzo Due metri di spazio Tira Guardate Guardate Per colpa vostra Va verticalmente Su Messias Che si Messias Messias Vuoi voda Ma quali tonali Dai Dai Perché la metti in mezzo Sulla dormita Della difesa Perché la metti in mezzo Dovano essere sicuramente Mamma mia ragazzi Cosa mi tocca Le idee Ma guardate Fate il mio dito Per colpa vostra Anzi La mia mano Per colpa vostra Mi fate dannare Mi fate dannare Mi fate dannare Contro il Torino Contro il Bologna Contro la Salernità Contro l'Udinese Ma che cazzo State a fare Qua è rischiato Un intervento Un po' al limite Potrebbe aver convinto Juric Non rischiare ulteriormente Palla dentro Rodriguez Belotti Belotti Tomori Allora Belotti Ha fatto una cosa Tomo Cosa ha fatto Belotti Messias Porca puttana Messias Ma perché Certe gente Gioca nel Milan Guai a voi Guai a voi Se lo riscattate Guai A voi Dai Dai franchino Dai franchino Dai franchino Si fa vedere E può ricevere Messias Sta giocata di prima Bella Messias per Tonali 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 Adosso a Beriscia Adosso a Beriscia Tiro di punta Cozzo Tiro di punta La palla La palla di Messias Occhio a Belotti Dentro c'è Pobega Belotti Filippo Belotti Tu mori Belotti Sul fondo Non c'è L'eviazione Di me Anche Raga Entra Pellegri Esce Belotti Dai 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 Grande che si Dai Ridagliela Per uno contro Uno Messias Ruglie La rida Che si Che parte Messias Tenta risaltare L'uomo Sono queste Le cose Che mi mandano Il veleno C'è Giroud Non tirare Non andare fino a fondo Non andare fino a fondo Passala 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 Esce Tonali Entra Kroni Cioè ti rendi conto Che sia giocato da schifo Toglie Tonali Ragazzi Non ne posso più È già dal ventesimo Nel primo tempo In questa partita qua Non la volevo più vedere Potrebbe anche puntare Nell'uno contro uno Tomori Pellegri Questa è proprio l'idea Pellegri Pellegri Ancora Pellegri 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 Mignon Perché Tomori l'ha affrontato Non gli è entrato Krunic C'è Leao Che parte Non gliela dà Noi non passiamo la palla C'è ma ha fatto un po' di Torello In allenamento Perché non è possibile Che poi arrivano questi cross Che vanno a fanculo Altro errore di Sele Mekers Sbaglia un passaggio a un metro Sbaglia un passaggio a un metro Passano Sele Mekers passano A te Non gliela dà Messias fuori 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 Mente pallone Intervento regolarissimo Poi c'è stato lo scontro di gioco tra i giocatori Matteo Che ha provato a coordinarsi Palla che è rimasta lì Comoda per la center Ragazzi dopo questa cagata di gabbia Io chiudo qua